Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un viaggio di scoperta personale, riflettendo sulle sfide dell'età adulta, sulla fragilità delle emozioni umane e sull'importanza delle connessioni interpersonali. Attraverso gli occhi del protagonista, si esplorano le incertezze e le speranze che accompagnano la crescita. Rivelando come l'amore possa trasformare la vita e dare senso anche ai momenti più difficili. La narrazione invita a riflettere sul valore dell'amore e della compagnia, mostrando che, anche nei periodi bui, un incontro inaspettato può cambiare tutto. La trama del libro Che cosa significa amare dello scrittore Davis Annibaldi, pubblicato dalla casa editrice gruppo Albatross Il Filo, è la seguente. Enea è a un punto morto della sua vita. Ha una laurea, ma non ha un lavoro né stimoli per affrontare le sue giornate. Ha 29 anni e niente per cui combattere. La svolta arriva un giorno qualunque quando, dopo l'ennesimo colloquio di lavoro andato male, ha il morale a terra. Suona il telefono, è una carissima amica di famiglia, Ines, che gli offre di lavorare per lei, di aiutarla nelle commissioni giornaliere, di trasferirsi a casa sua per avere compagnia. Enea decide di accettare. E da quel giorno sembra avere finalmente uno scopo, un motivo per cui alzarsi la mattina. Ines è una donna sulla sessantina, vedova, ma piena di vita. Ma si sa che quando meno ce lo aspettiamo la vita ci sorprende, ed è quello che accadrà al nostro protagonista. Un incontro fortuito cambierà le carte in tavola, senza chiedere il permesso un sentimento dirompente lo travolgerà ancora con le sue gioie e i suoi dolori. A cosa può spingere l'amore? Fino a dove può portare questo sentimento così viscerale. Ma soprattutto, che cosa significa amare? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.